ricetta lombata fritta a basso contenuto di istamina ricetta di controfiletto fritto che dimostrerà che non è in contrasto con il piacere di una buona cucina con diete a basso contenuto di istamina ricorda i pezzi di carne e pesce devono essere il più freschi possibile per abbassare la loro cancelletto istamina acquistarli in stabilimenti di fiducia ti darà maggiori garanzie come già saprai la cipolla è ricca di quercetina ma sconsigliata per la dieta cancelletto format usane uno piccolo per questa cancelletto ricetta giusto per dargli quel punto e coronare la tua presentazione tempo di preparazione 15 minuti tempo di cottura 40 minuti tempo impiegato 55 minuti numero di commensali 2 anno stagione tutto l'anno difficoltà molto facile tipo di cucina mediterranean categoria piatto cibo portata principale ingredienti 300 grammi di filetto di maiale iberico dal macellaio 1 patata dolce 1 cipolla bianca 3 cucchiai di miele olio d'oliva sale 2 cucchiai di latte vegetale il tuo preferito opzionale pepe asterisco se tollerato correttamente opzionale passi passo 1 sbucciare e tagliare a tocchetti le patate dolci lessateli senza sale né olio in una pentola finché non saranno teneri scolatele e fatele scaldare passo 2 con una forchetta schiacciatele fino ad ottenere una purea passo 3 metti le spezie che ti piacciono e mescola di nuovo e se vuoi regolare la consistenza e renderla più liscia aggiungi lentamente un paio di cucchiai di bevanda vegetale passo 4 si uoi la chiave è il tempo tagliate a fettine la cipolla e mettetela in una padella con l'olio passo 5 cuocere per 30 40 minuti a fuoco medio basso o finché non sono pronte passo 6 mescolate di tanto in tanto e aggiungete acqua se necessario potete mettere anche un pizzico di sale per alzare il sapore passo 7 salare e pepare asterisco il filetto e spennellare con il miele scaldare l'olio in una padella e friggere il controfiletto a fuoco basso fino a doratura rimuovere e tagliare a pezzi di 5 centimetri o tre dita passo 8 metti 3 cucchiai di purea al centro del piatto passo 9 aggiungi uno dei pezzi di controfiletto passo 10 completare con un po di cipolla caramellata la ricetta di naturdao presso bio-pharma.es